Rumore di fondo ma buonasera Buonasera gente Questa recensione arriva in ritardo rispetto a quando l'avevo programmata Potrebbe partire un rutto E' passato Non aveva finito E Inizio dicendo che spero che anche voi abbiate bevuto oggi i vostri due litri d'acqua giornalieri Però insomma sono qui per parlare di Quello che penso sia attualmente uno dei migliori film d'animazione in assoluto mai realizzati Che è Coraline e la Porta Magica Voi direte Ma Rob Barraven Non è che forse la stai gonfiando un po' troppo No! Questo è un cazzo di capolavoro Voi non vi rendete conto porca puttana Per la fine di questa recensione voi vi renderete conto di che capolavoro sia Coraline Allora Vi giuro che non sto morendo signori Allora Che cosa è Coraline e la Porta Magica? Di che cosa parla? E tutta la lore? Eccetera eccetera Allora Praticamente Coraline è un libro scritto da Neil Gaiman Penso nel 2007 Perché è uscito più o meno in concomitanza col film Se ho capito bene E qual è la storia a grandi linee? La storia a grandi linee è quella di questa ragazzina Di questa ragazzina Che si trasferisce con i genitori in una nuova casa E insomma La vita è un po' una merda È un po' piatta Non succede un cazzo I genitori non la cagano I vicini non sono stimolanti Eccetera eccetera Insomma letteralmente Mi sono trasferita Che coglioni Stavo meglio A Pontiac Nel Michigan Ci stavo molto meglio Cosa succede? Coraline Esplorando la casa Trova questa porticina Piccina Che conduce A un mondo parallelo Conduce a un mondo parallelo Dove C'è una versione migliorata della sua casa Tutti i vicini sono perfetti Letteralmente tutto è un paradiso Lei ottiene tutto quello che vuole Però C'è una cosa strana C'è una cosa piuttosto sus Che tutti gli abitanti Di quello che da adesso in poi Definiremo l'altro mondo Hanno dei bottoni al posto degli occhi E insomma Long story short Tutto questo altro mondo Si rivelerà un mega trappolone Per attirare Coraline Che a quel punto dovrà Riuscire a scappare A fare delle cose Allora Questa è a grandi linee La storia del libro La storia del film Più o meno è la stessa Ma adesso ci arriviamo Per ora Raccontiamo la storia del film Perché così possiamo fare i paragoni Libro film Molto meglio Allora ragazzi Questo film Che è uscito nel 2007 Ed è un film in stop motion Che è effettivamente Il primo lavoro vero Della Laika Io non riesco a descrivere Con quanta cura Abbiano fatto questo film Però Cerchiamo di procedere con ordine Perché se no Non diremo mai Tutto quello che vogliamo dire Per bene Insomma Il film inizia con Coraline Che si trasferisce La vediamo che va a giro Esplora un pochettino E insomma La vita più o meno è quella Poi incontra questo ragazzino Di nome YB YB Lovat Che il nome completo sarebbe Whyborn Che letteralmente tradotto è Perché sei nato Tanto che lei glielo dice proprio Nel film in inglese Why were you born Glielo dice proprio così A merda Bambina stronza E insomma Lei conosce questo ragazzino Di nome YB Che è un po' strano Lei lo prende un po' Per un pedinatore Però lui deve scappare via Comunque Perché la nonna lo chiama E quando hai il parente Che ti chiama Sai che devi tornare Insomma Qui vediamo che Coraline Non è felice Nella sua casetta Perché è tutto grigio I vicini Sono strani I genitori Non la cagano Ruti Ok aspetta I genitori Non la cagano Eccetera eccetera Cosa succede? Le arriva Un regalo Da parte di YB Che è Una bambolina Di se stessa È una bambolina Di se stessa Con i bottoni Al posto degli occhi Lei lì Per lì Vabbè dice È un po' sus La cosa Però va bene Lo accetta Se lo porta a giro Eccetera eccetera Esplora la casa E trova questa porticina Soltanto che Si fa dare la chiave Dalla mamma Che in realtà Per tutto il film Non viene mai nominata Nel libro Non viene mai detto Il nome Mi sembra Il nome Penso che venga detto Nel videogioco E il nome Della mamma Di Coraline Dovrebbe essere Mel Però Diremo la mamma Di Coraline Per praticità Nel caso Evitiamo di dire Stronzate Sappiamo Che il padre Si chiama Charlie No aspetta No non è Charlie È È No no è proprio Charlie Mi sa Se è il vero Charlie Jones Sì 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 Charlie si chiama E cosa stavo dicendo Insomma Ci riferiremo a Il babbo di Coraline E la mamma di Coraline Dico il babbo E non il papà Barra al padre Perché sono toscano Quindi qui diciamo Il babbo Punto Se qualcuno vuole questionare Quella è la Se qualcuno Ha da ridire Quella è la porta Ma comunque sia Insomma Vediamo che lei Non è felice Si rompe le palle Trova questa porticina Chiede alla mamma Di aprirla Perché è chiusa a chiave Lei trova la chiave La apre Ma dietro c'è un muro di mattoni Non c'è letteralmente nulla E quindi insomma Beh Avranno murato la porta Quando hanno diviso In appartamenti La casa E quindi Nulla Coraline lì Che palle Questo mondo di merda Mio padre Ogni volta che cucina Cerca di avvelenarci Però va bene Cosa succede poi Che Coraline Si mette a dormire Si mette a dormire E Si sveglia Il rumore Di questo topino Che la sveglia E il topino Va a infilarsi Dentro la porticina Che Quando Coraline L'apre Questa volta Invece c'è un tunnel Che porta A un mondo parallelo Lei Attraversa Questo tunnel Tutto bello Colorato E si ritrova Letteralmente Nella stessa stanza Da cui è entrata Infatti è un po' confusa Però vede che C'è qualche differenza Tipo Il quadro Nel salotto Dove c'era il bambino Col gelato Che gli era caduto In quel mondo Invece il gelato Ce l'ha intero E se lo sta godendo Quindi Eh? Infatti anche lei Guarda quel quadro In maniera un po' Sospetta Perché dice Aspetta ma non era così Insomma va in cucina Dove Tutto è molto più colorato Vede sua madre cucinare Nel piano della notte Giustamente le chiede Mamma ma che cosa ci fai In cucina a quest'ora Lei si gira Sei giusto in tempo Per la cena E sua madre Ha dei cazzo di bottoni Al posto degli occhi Coraline giustamente Rimane molto sciocco Basita da questa cosa Tipo Tu non sei mia madre Mia madre non ha Dei Bottoni Ti piacciono? Io sono la tua altra madre È sciocca Ora vai ad avvisare Il tuo altro padre Che la cena è pronta Insomma lei è molto confusa Però va bene Va ad avvisare l'altro padre Quasi sicuramente Lei è convinta Se è un sogno Però vabbè ci sta Entra nell'ufficio del padre Che nel mondo reale Non la cacava Nemmeno di striscio Le parlava con lo sguardo Fisso sul monitor Del computer E Lì invece Ha un pianoforte È uno studio musicale Incredibile Tanto che lui Sul momento Crea una canzone Per Coraline Insomma tutto bello Tutto è di lì Ecco tutto è incredibile Sono a cena Mangiano Eccetera eccetera Insomma lei Dice Wow ma quanto è figo Sto posto Non so che sogno Sia questo Però è incredibile È incredibile Certo La mia altra madre Che mi spiega Che tutti hanno Un'altra madre Che è molto meglio Di quella vera È un po' sus Però va bene Per ora accettiamo Un po' di cosette Soltanto che lei Insomma si sente Troppo confusa Da tutta questa atmosfera Molto felice E quindi dice Guarda Forse mamma È meglio se vada a letto Ma certo tesoro Ti accompagniamo noi Vai in camera Si mette a letto A dormire E Coraline Aveva anche Un'infezione Sulla mano sinistra Perché Nel giornata Aveva preso in mano Dell'edra velenosa E Ah sì E in tutto questo Lei stava anche rischiando Di cadere dentro un pozzo Insomma Aveva la mano sinistra Irritata Dall'edra velenosa E l'altra madre Le mette il fango Sulla mano Perché così Almeno le può guarire Lei si mette a dormire Tutto bello E si risveglia Nel mondo normale Nel mondo reale Quindi è un po' confusa Ah che sogno strano Che è stato Però cazzo L'irritazione sulla mano Mi è guarita Incredibile Quindi lei Torna giù Prova ad aprire la porticina Però ci sono Semplicemente i mattoni Normali Quindi Boh Forse l'ho sognato sul serio Racconta il sogno Alla madre Tutto bello Interessante Cioè La cagano il giusto E La mamma di Coraline Le dice Guarda Perché non vai a raccontarlo Alle tizie del piano di sotto Miss Spink Miss Forcible Sono sicura che quelle attrici Adorerebbero Il tuo sogno Miss Spink E Miss Forcible Ma hai detto che sono toccate E quindi niente Coraline esce Ha una piccola deviazione Verso il vicino del piano di sopra Che è Mister Bobinsky Che In realtà nel libro È Semplicemente Il vecchio del piano di sopra E Per la fine del libro Il signor Bobo Quindi Bobinsky Forse l'hanno adattato Per il film Così Che è questo Uomo russo Incredibile Che praticamente Ha un circo di topi Salterini Che però Deve ancora Gestire Deve ancora maestrare Insomma ancora non è riuscito A fargli niente Soltanto che però Gli viene Gli viene Dato il messaggio Da parte di Bobinsky Da parte dei topi Salterini Che è Non attraversare Piccola porta Qualcosa ti dice La porticina Dietro la tappezzeria Ma è stata murata E insomma Mister Bobinsky Pensa Vabbè sono i topi Che hanno capito male Hanno persino capito male Il tuo nome Ti chiamano Caroline Invece di Coraline Infatti Tutti la chiamano Caroline Anche se Caroline È un po' sbagliato E quindi è Coraline A quel punto Lei Fai Che deve fare Va Da Miss Spink E Miss Forcible Che hanno questi tre Terrier scozzesi Incredibili E praticamente Erano in passato Due attrici Teatrali Adesso sono due vecchiette Che vivono assieme Tutto bello Dove Praticamente Si litigano fra di loro In continuazione Sono due vecchiette Che non sono d'accordo Su nulla Però Cosa succede? Praticamente Lei va da loro Si fa leggere Le foglie di te E Insomma Una di loro dice Oh Caroline Tu sei in grave Grave pericolo Quell'altra Invece gli dice No Sei scema Non capisci niente Ti guardo io Cioè In realtà C'è roba bella Nel tuo futuro Il punto è che Una di loro Vede una mano E l'altra Girando la tazza Vede una giraffa Che va bene Insomma Le danno dei consigli Relativamente inutili Però va bene Lei Va bene Grazie per il tè È stato bello Vedervi Uscendo Rincontra Waibe Che Lei pensava Lo stesso Stalkerando In realtà Era Cercare Lumache Insieme a Un gatto Randaggio Che lei Prontamente Insulta Amicione Mollaccione Praticamente E Cosa gli racconta Waibe Gli racconta Che Sua nonna Non permette Bambini Dentro Pink Palace Che è L'appartamento Dove si sono Trasferiti loro Perché In passato La nonna Aveva una sorella Che però Poi è sparita E non si è più Vista C'è chi dice Che è scomparsa Chi dice Che è scappata via Chi dice Che è stata rapita C'è chi dice Che è morto Bagianate Dico io No Per me È ancora in circolazione No Per me È morto No Per me Una cosa Assolutamente certa È morto No Insomma Ragazzi Nulla E Waibe Spiega Coraline Della Nonna Della sorella Scomparsa Della nonna E poi deve scappare via Deve scappare via Il gatto Un pochettino Osserva Quella Però lo vediamo Un po' Un po' Sospetto Ma sulla sua Cosa succede Poi Coraline Rientra in casa Non mi ricordo Di preciso Che cosa succede Però questa volta Prepara un'esca Per i topi In modo che Così può constatare Un po' Nella sua testolina Se questa cosa è vera Oppure no Insomma Lei mette questa esca Per i topi I topi vengono a prendere Il formaggio La conducono Di nuovo Nell'altro mondo Lei ci ritorna Più che tranquillamente E questa volta Che lei rientra Nell'altro mondo La madre La manda in giardino A vedere Il giardino Con i fiori Le piante Tutto creato dal padre Sì ragazzi State capendo che il film Mi piace Perché ve lo sto raccontando Per filo e per segno No ragazzi Vi dirò Tutto Tutto vi dirò Perché di questo film Devo parlare Perché se non spiego Tutto ragazzi Sarà un po' Macello dopo capire Delle cose Insomma Lei vede il giardino Tutto bello Con tutti questi fiori Ingredibili Tutto bello Che addirittura Visto dall'alto È praticamente La faccia di Coraline Dopo questo Loro Lei e i suoi altri genitori Sono in cucina A mangiare Tutto bello E praticamente Cosa succede L'altra madre Invita in casa L'altro Wybie Che è letteralmente Wyborn Anche lui con i bottoni Al posto degli occhi Che però non parla Perché giustamente Lei dice Pensavo che ti sarebbe Piaciuto di più Se avesse parlato di meno Quindi l'ho sistemato Lui adesso non parla più E già che ci sono L'invita Anche al piano Già che c'è L'invita anche al piano di sopra Perché Mr. Bobinski Ha proprio il circo Tutto bello Tutto bello Coraline e Wyborn Entrano Vedono questo Grandissimo spettacolo Dei topi salterini Incredibile Vede questo Grande spettacolo Dei topi salterini Tutto bello Tutto figo Mega fotonico E poi Torna a letto Torna a letto Felice Si risveglia nel mondo reale E si incazza Perché Che palle Mi sono risvegliata Nel mondo reale Lei vuole ritornare alla porta Ma questa volta La trova chiusa Questa volta La trova chiusa a chiave Mondo reale Coraline Va a comprare i vestiti Con sua madre Sua madre Non le compra Quello che vuole lei Lei è tipo Musolungo Imbronciata La mia altra madre Me li comprerebbe Beh già che c'è Ti potrebbe comprare Anche tutto il negozio Cioè in realtà In italiano le dice Potrebbe comprarti Anche tutto il resto In inglese le dice Allora già che c'è Potrebbe comprarti Tutti i vestiti Però più o meno Siamo sempre lì Sì in inglese Dice più o meno Allora dovresti lasciare Che sia lei A comprarti tutto quanto E insomma Coraline Mentre nel viaggio In macchina Con la madre Insomma le chiede Ma te che cosa pensi Ci sia Nell'altro appartamento Ah non lo so Certamente Non una famiglia Di nostri impostori E perché hai chiuso la porta Oh quello Ho trovato escrementi di ratto E ho pensato Che fosse Più sicuro Insomma Coraline Lì che le dice Sì però che palle I sogni Non sono pericolosi Sono la cosa più divertente Da quando siamo entrati qui Si rompe le palle Rientra in casa Non hanno letteralmente Un cazzo da mangiare E la mamma le dice Guarda Vuoi che ti accompagni Vuoi che mi accompagni A fare la spesa Così ti prendi Quello che vuoi Ah Tipo i guanti E insomma Senti Ti prometto Che se tutto va bene Mi farò perdonare È quello che dici sempre La mamma esce Dispiaciuta Senza di nulla E Coraline pensa Però Io me ne potrei anche andare Prende la chiave Rientra nell'altro mondo Si rende conto Che l'altro mondo È reale Ed entra lì Tutto bello C'è tutta la cena Già pronta L'altra madre Le ha fatto un vestito Tutto bellino Che è tipo questa felpina Con le stelle florescenti E Coraline Mentre si avvia Verso l'appartamento Dell'altra Miss Spink E Forcible Perché hanno Lo spettacolo Teatrale Anche loro Là sotto Incontra Il gatto Non l'altro gatto Il gatto È il gatto Normale Del mondo normale Non ha bottoni Sugli occhi E questa volta Parla E praticamente Il gatto Le spiega Sì insomma Tutto bellino Tutto bellino Però Non è che è un po' Troppo susse la situazione Cos'è questa palla di luce nel cielo Allora è qualcuno che ha acceso una lucina Cazzo Non mi sembrava la luna Però era troppo luminosa Mi diceva Che cazzo è successo Ci stanno arrivando le bombe Per davvero Ehm Cosa volevo dire Cosa volevo dire Insomma il gatto Inizia a mettere un po' La pulce nell'orecchio Senti ma Tutto questo mondo È troppo bellino Sei sicura che non ci sia Un'inculata dietro Ehm Me l'ha detto l'altro Wybie Il show che se quello non parla Ah forse non contendo I gatti siamo più intelligenti Insomma Coraline va allo spettacolo I missus pink e forcible Che fanno questa performance Incredibile A una certa Prendono Coraline Letteralmente dalla poltrona La fanno volare Sopra il teatro Tutto figo Tutto bello Dopo lo show Coraline rientra in casa L'altro Wybie Rimane fuori Coraline non se ne accorge Ma l'altra madre si Che l'altro Wybie Non sorride più Non sorride più È triste E l'altra madre Gli fa accenno di sorridere E poi chiude la porta Può restare qui per sempre Se lo vuoi C'è solo una piccola cosa da fare Le danno un pacchetto regalo Coraline lo apre Dentro ci sono due bottoni Un rocchetto con il filo E un ago Il nero è tradizionale Ma puoi averli anche rosa Vermigli O verdini Certo ne sarei un po' gelosa Quindi insomma L'accordo è Se te vuoi restare in questo mondo bellissimo Devi farti cucire i bottoni al posto degli occhi E insomma È così appuntito che non sentirai niente Comunque è una tua decisione Noi vogliamo solamente il tuo bene Io vado a letto Subito Prima di cena Sono tanto tanto stanca Sì Devo dormirci su Alle mie decisioni Ma certo tesoro Vengo a rimboccarti le coperte Oh Non preoccuparti Hai già fatto anche abbastanza L'altra madre Se te le trasporta letteralmente dietro Ma figurati Noi siamo più che felici tesoro Presto vedrai le cose come noi Quindi Coraline Insomma Ha capito che c'è un pericolo Non vuole farsi cucire i bottoni al posto degli occhi Letteralmente Si getta in camera Chiude a chiave la porta Barrica la porta Mettendoci dentro tutti Mettendo dentro una cassa Tutti i suoi giocattoli Si butta al letto Dicendosi Cazzo mi devo svegliare Mi devo svegliare Ritorna la luce È bello Mamma papà sono a casa Ma il problema è che lei non è a casa È ancora nell'altro mondo Scende Prova a rientrare in salotto Ma la porta per il salotto è chiusa Va a cercare l'altro padre Che è di spalle nello studio Luci spente Che preme un solo tasto sul piano A ripetizione Dov'è l'altra madre? Me ne voglio andare Tutto sarà bello Quando la madre lo rinfrescherà La sua forza è la nostra forza Non posso parlare Quando la madre non c'è Beh se non puoi parlare tu Non me lo farò dire dall'altro Wybie Lui mi aiuterà Non può Ha messo il muso lungo E la madre non ha gradito Insomma Dopo essersi trovato davanti L'altro padre Che letteralmente si è Abbassato la mandibola Di tre volte del normale Coraline capisce Che c'è qualcosa Che non va Letteralmente scappa Dall'altra casa E corre nel bosco Ritrova il gatto Che dice Insomma io te l'avevo detto Te adesso che cazzo pensi di fare E lei insomma Discuta un po' Di quello che pensai fare Soltanto che a forza di camminare Letteralmente scompare Tutto lo scenario Si ritrova in uno spazio bianco Dove non c'è nulla Non capisco L'altro pozzo Non c'è qui Non c'è niente Lei ha creato soltanto Quello che ti poteva impressionare E insomma Il gatto Le dà Conferma definitiva Che quel mondo è fittizio Che è creato solo per impressionarla A forza di camminare Si ritrovano di nuovo Al punto di partenza Il gatto scompare Dopo aver ammazzato Uno dei topi del circo Che da tutto bellino bellino Appena morso alla schiena Diventa un ratto Lì Coraline A quel punto Ha conferma totale Che quel mondo lì È un trappolone assurdo Quindi cosa fa Lei a una certa Riesce a Spaccare la maniglia Del salotto Entrare Vede la porticina Tutto bello Il problema è che Tutta la stanza si illumina Tutti i mobili Sono diventati Di fattezze Insettoidi Incredibili E c'è l'altra madre Sul divanetto Che insomma Cerca di convincerla Bellina Senti Vuoi Dei Scarafaggi di cioccolato Bellini Che questa qui Se li mangia Mentre ancora zampettano Insomma Coraline le dice A cazzo duro Con voce portata Io voglio stare Con la mia vera Con i miei veri Mamma e papà Lasciami andare Subito È questo il modo Di parlare a tua madre Coraline Tu Non sei Mia madre Io spero che Ti scuserai Coraline No Ti darò Tempo fino a tre E c'è un problema Che in questo film La mamma Effettivamente Conta fino a tre E nel passaggio Da uno Due a tre Diventa molto più alta Molto più secca E molto più brutta Prende Coraline Di prepotenza E la lancia Dentro lo specchio In una stanza Buia Cubica Non illuminata Dove È tutto una merda Potrai uscire di qua Quando diventerai Una figlia amorevole Lei si ritrova Letteralmente Inchiabardata In uno stanzino Qui fa la conoscenza Di tre fantasmi Fa la conoscenza Di tre bambini fantasma Con i bottoni sugli occhi Che Insomma Le raccontano la loro E dicono Anche noi Eravamo come te Lei spiava le nostre vite Dagli occhi della bambola Vedeva che non eravamo felice Quindi ci ha attirati Con blandizie e delizie E giocattoli e giochi E più da lei Ottenevamo E ancor più Volevamo E così abbiamo lasciato Che ci cucisse i bottoni Lei diceva di amarci E invece ci ha chiusi qui E si è mangiata Le nostre vite Insomma Coraline lì capisce Che L'altra madre Non può tenerla rinchiusa Lì dentro per sempre Se vuole effettivamente La sua vita E capisce che In un modo o nell'altro Deve fronteggiarla I bambini Le chiedono Se te riesci Effettivamente a scappare Ce la fai A cercare I nostri occhi Perché lei Si è presa anche quelli E li ha nascosti Se riesci a trovarli Ci puoi liberare Coraline viene Liberata Dall'altro Waibi Che Ha letteralmente Un sorriso Cucito sul viso Tanto che Quando poi Si trova Molto scoperto Si copre la faccia Per non spaventare Coraline E lui Letteralmente La porta nel corridoio Per La porta nel salotto Per aiutarla a scappare Apre la porta L'altra madre Ha capito Che sta succedendo qualcosa E Coraline è tipo Vieni commetti Ti farà ancora del male Lui letteralmente Si toglie un guanto Si soffia sulla mano E la mano scompare Getta Coraline Di prepotenza Dentro il tunnel Chiude la porta E lei scappa Nel suo appartamento normale Ritorna a casa Chiude la porta Tutto felice C'è un problema Che una volta tornata Nel suo appartamento Si rende Conto In poco tempo Che i suoi genitori Sono scomparsi I suoi genitori Sono scomparsi Non c'è traccia di loro C'è la spesa C'è la macchina C'è il telefono Della mamma Ma non si vedono Da nessuna parte Nessuno sa Dove siano finiti E Insomma Lei va da Miss Pink E Miss Forcible Per confidarsi con loro E loro Per aiutarla Prendono caramelle vecchie Di 100 anni Le triturano in polvere E le danno letteralmente Una pietruzza triangolare Con un cerchio dentro Che In mitologia Sarebbe una Hagstorm Che non ha una traduzione Vera in italiana E è tipo la pietra delle fate Che permette di vedere Cose invisibili Soltanto che Coran lì per lì Non capisce Come una pietra Può aiutarla A ritrovare Può aiutarla A ritrovare i genitori E insomma Si rimette in casa Letteralmente Si mette nel letto Dei genitori Li ricrea Usando dei cuscini E si mette Al letto Piangendo Perché è tipo Dove cazzo sono finiti Aiuto Viene svegliata Nel mezzo della notte Dal gatto Che pur non parlando Gli dice Cioè Le fa capire Che sa dove sono I suoi genitori La porta in corridoio Davanti allo specchio E letteralmente Dentro lo specchio Di casa sua Vede I suoi genitori Al freddo Che Alitando sul vetro E scrivendo col dito Le scrivono Aiutaci Lei capisce Che li ha presi L'altra madre Ma non sa come Il gatto La riporta in camera E sotto il letto Dei genitori C'è una bambolina Raffigurante Entrambi Coraline a quel punto Capisce Che se vuole salvare I genitori Deve ritornare Lì dentro Deve ritornare In quel mondo Prende tutto Quello che può E nel tragitto Per l'altro mondo Il gatto Le dice Senti Lo so che te Ti stai andando A cacciare In un bel casino Però se vuoi avere Delle possibilità Sfidala Non c'è garanzia Che giocherà pulito Però di sicuro Non si rifiuterà Un debole per i giochi Quindi insomma Coraline rientra Ritrova l'altra madre Che dice Ah guarda Non so proprio Dove siano I tuoi vecchi genitori Forse si sono rotti Il cazzo di te E sono andati in Francia E insomma L'altra madre Cerca di comportarsi Tutta bellina Normale Però ha mantenuto Il suo aspetto Da Strega Brutta Cattiva Coraline è lì Che col sudore Alla fronte Le dice Senti Facciamo un gioco Facciamo un gioco D'esplorazione Una caccia al tesoro Se io trovo Gli occhi Dei bambini fantasma E i miei genitori Te ci lasci andare Tutti quanti Se perdo Allora posso restare qui E te puoi cucirmi I bottoni sugli occhi Si fa dare Degli indizi Capisce E qui apro Una parentesi Grande adattamento Italiano Che Nelle tre meraviglie Che ho creato per te Un occhio fantasma Nascosto in piena vista È In inglese Non rima Non mi ricordo Come fa Ma so che in inglese Non c'è la rima Quindi Noi italiani Abbiamo fatto meglio GG E insomma Coraline Va a visitare Il giardino Che adesso È Più brutto È più brutto I fiori Questa volta Sono aggressivi Tutto bello E qui Lei scopre Che cosa fa La pietruzza Triangolare Col cerchio Letteralmente Tutto il mondo Diventa grigio E questa pallina Si illumina D'arancione Capisce che quello È uno degli occhi Fantasma Soltanto che c'è un problema Che l'occhio fantasma Del primo bambino È La manopola Del cambio Di questa Mantide Gigante Da giardinaggio Del padre Che letteralmente Si mette a inseguire Coraline Per il giardino Cercando letteralmente Di farla a pezzi Con una specie Di mantide robotica E Soltanto che L'altro padre È controllato Più o meno Dalle stesse mani Che lo controllavano Al piano Tanto che Lui stesso Gli dice È la madre Non dipende da me Io non voglio Farti del male Tanto che Quando la mantide Sta per cadere Dentro il lago Lui riesce A liberarsi una mano Stacca la manopola E la lancia A Coraline Dicendole di prenderla Coraline la prende Tutto il giardino Si congela E diventa grigio E lì inizia a capire Che cosa sta succedendo Nel secondo passo Coraline entra Dentro il teatro Di Spink e Forceball Che questa volta È tutto buio I canni della platea Sono diventati Dei canni di pistrello In cima al teatro E Miss Pink e Miss Forceball Sono diventate Fuse assieme Questa specie Di mega caramella E l'occhio È la perla Che una di loro Ha alla mano Tipo all'anello Della mano Lei riesce a prendere Anche quella Facendo sì Che loro vengano Massacrate Dai loro stessi cani Si congelano Anche loro E tutto bello Ve la faccio breve A questo punto Poi lei va Da Bobinsky Dall'altro Bobinsky La bandiera Davanti alla casa Davanti alla porta Dell'altro Bobinsky È stata sostituita Dai vestiti Dell'altro Waibi Coraline qui È distrutta emotivamente Entra dentro E c'è questa Creatura In forme Con i vestiti Bobinsky Di cui non si vede Neanche il volto Che parla Con una voce Enormemente Distorta E insomma Sta lì a cercare Di dissuaderla 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 Dicendole Ma te sei sicura Che vincere Sia una cosa buona Se torni Poi vinci Torni a casa Ti rompi di nuovo Le palle Se resti qui con noi Ti divertirai sempre Non ci saranno problemi Soltanto che lei Insomma Dice Te non riesci a capirlo Vero È ovvio che no Te sei solo una copia Del vero Mr. B Creata da lei Non sono più Neanche quello Gli toglie il cappello E sotto i vestiti Bobinsky C'erano soltanto I ratti Che lo muovevano Lei nel tentativo Di fermare uno dei ratti Perde la pietruzza Esce dall'appartamento Letteramente Cade a terra Mezza spaccata E si rende conto Che Ha perso il topo Con il terzo occhio È lì che si dispera Perché Sa di aver perso Il gatto arriva A salvarla Il gatto Lettamente ha ucciso Il topastro Le passa All'occhio Tutto bello E guarda Credo che questa Ti servisse Mentre il mondo fuori Si sta disintegrando Nel vuoto Loro riescono A rientrare in casa Sia lei che il gatto Lei rientra in casa Che ormai È tipo Una catapecchia Enorme E si trova nel salotto Davanti all'altra madre Che ormai Diventa tipo Un enorme Ibrido Ragnone Fatto di aghi Coraline è lì che gli dice Sì aspetta Con calma Ho trovato gli occhi Dei bambini Ma ancora devo trovare I miei genitori Lì capisce Tramite l'aiuto Di uno dei fantasmi Che gli parlano Tramite queste palline Che Ehi sveglia Anche se vinci Lei non ti lascerà Mai andare Devi inventarti qualcosa Ed essere furba Quindi Coraline Ah già In tutto questo L'altra madre Aveva mangiato La chiave Della porta E C'è una sola chiave C'è una sola chiave Quindi Coraline Fa la furbata Le dice Tanto lo so Dove tieni i miei genitori Sono dietro Quella porticina lì E quindi Convince l'altra madre Ad aprirla Proprio per dire Ah anche se non fossero lì Devi dimostrarmelo Vai ad aprire quella porta Se non me lo dimostri Io non ti credo Per botta pura di culo Mentre l'altra madre È girata Ad aprire la porta Lei capisce dove sono i genitori Sono dentro Questa palla di vetro Gli snow globe Quelli Le palle di vetro Con la neve finta dentro Che se le agiti Sembra che nevichino Le chiamerò palle di neve Perché in inglese Sono snow globe I globi di neve Capisce che sono lì E per fotter l'altra madre Letteralmente Le lancia addosso al gatto Prende la pallina E cerca di scappare Solo l'altra madre Dopo essere stata Cecata dal gatto Perché letteralmente L'ha strappato I bottoni dagli occhi Letteralmente Fa crollare il pavimento Che diventa Una ragnatela enorme Coraline riesce A scansarsela Per botta Di culo enorme Riesce a rientrare Nella porticina Tira un calcio In faccia All'altra madre Che è la scena Più meme Di tutto il film E con l'aiuto Il bambino di fantasma Riesce a richiudere La porta Tanto da riuscire A staccare La mano Dell'altra madre Lei riesce a ritornare Nel mondo normale La palla di vetro Si è rotta E i genitori di Coraline Ritorna a casa Adesso i genitori di Coraline Sono felici Perché il lavoro Gli è andato bene Gli hanno accettato il catalogo Adesso finalmente Possono passare un po' di tempo Con la figlia Coraline si mette a dormire Facendo pace con il gatto Che era un pochettino Incazzato Perché non erano i piani Che venisse lanciato Addosso a un mostro Coraline si mette a dormire Con Con Gli occhi dei bambini di fantasma Sotto il cuscino E Ha questa sequenza in sogno Dove I fantasmi diventano angeli dorati E gli dicono Grazie È stato bello Quello che hai fatto per noi Sì sono contento Anch'io E se è tutto finito Sì è tutto finito per noi Te sei ancora in pericolo C'è una sola chiave Esiste una sola chiave E la Megera Riuscirà a trovarla Devi nasconderla da qualche parte Dove lei non sarà mai in grado Di trovarla E Infatti Coraline pensa subito al pozzo Coraline pensa subito al pozzo Perché è una zona Che non c'era Nell'altro mondo Quindi di conseguenza L'altra madre Non può sapere Dell'esistenza del pozzo Infatti Poi vediamo Coraline ancora non lo sa Ma l'altra mano Ma la mano dell'altra madre Fatta di Yagi Era ancora nel corridoio È riuscita ad attraversare la porta E sta cercando Coraline Lei Continua ad andare a giro Si trova davanti al pozzo Pronta a buttare via la chiave E Ancora prima che riesca A togliersela dal collo Viene aggredita a questa mano Che la prende di peso E tipo Quasi strozzandola Inizia a ritrascinarla Dietro verso casa sua Arriva Wybie Che Ha deciso di pedinarla In una maniera assurda Tipo mezzo stalker Spoiler In realtà non è stata Un'idea sua È stata un'idea del gatto Che l'ha portato fin lì Wybie rischia quasi di morire Cadendo nel pozzo Riescono a spaccare la mano Gettandole un sasso enorme addosso Legano la chiave A questo cencio Dove c'è dentro tutto E lo buttano dentro il pozzo Chiudono il pozzo E Wybie È tipo Guarda Scusami Se non ti ho creduto A tutto questo macello Scusa se a tutto questo macello Non ti ho creduto Sì c'era un pezzo Con Wybie Che mi sono dimenticato Di raccontare Era quando scomparivano I genitori Coraline Lei si trovava Wybie davanti Gli diceva Sì guarda Mi libero volentieri Della bambola Gli racconta tutto Dell'altro mondo Ma Wybie non gli crede Le dà di pazza Solo che Wybie Ha cambiato idea Addirittura la chiama Coraline Perché Ha raccontato questa cosa Alla nonna E quando Ha detto che era pazza La nonna le ha dato la foto Di lei con la sua sorellina E Coraline giustamente Le dice Allora sì Te lo confermo La fantasmina che ho conosciuto io Era la sorella della nonna Insomma Tutto finito Tutto bello Adesso Le cose iniziano finalmente Ad andare bene Nel mondo normale È bello vedere come Alcuni aspetti Dal mondo Dall'altro mondo Le è riuscita a trasportare Nel mondo reale Rendendoli più o meno Una realtà Ma che non sia pericoloso Tipo Che i fiori nel giardino Inizia a sceglierli Un po' Basandosi su quelli Quindi insomma Però tutto bello Tutto bello Dà l'impressione Che la storia sia finita E tutto molto bello Insomma Finisce bene Coraline ritorna Con i suoi genitori I genitori adesso La cagano un pochettino di più Però adesso Inizia finalmente A legare con tutti Questa era la storia Ora Le differenze dal film Al libro Ce ne sono un po' Ce ne sono un po' Tanto per cominciare Tipo Quasi tutto quello Che succede Nella seconda metà di film Nel libro accade Praticamente subito Nel libro accade Praticamente subito Coraline fa molti Meno viaggi Fra mondo reale Altro mondo eccetera Cioè Nel film Coraline Si ritrova Nell'altro mondo Tipo Quattro cinque volte Nel libro Lei entra Una volta Vede tutto quanto Arriva al punto Di capire già Che c'è una fregatura Scappa I genitori Sono spariti Rientra dentro Ed esce Quando ha fatto tutto Quindi nel libro Scusate Nel libro Lei fa tutto In due viaggi E Nel libro Wyborn non esiste Wyborn non esiste È stato inserito nel film Proprio A detta degli autori Perché Allora Uno Se avessero fatto il film Fedele Fedele al libro Al cento per cento Sarebbe durato Quarantasette minuti Il film E numero due Wyborn Serviva A esternare I pensieri Di Coraline Serviva avere un personaggio A cui Coraline Potesse dire Fra virgolette Per esplicito Certe cose E Esplicito E implicito Anche l'altro Wyborn Anche l'altro Wyby Serve Allo spettatore Magari un po' più Bambino Per fargli capire Delle cose Per fargli capire Che alcune cose Non vanno Perché ora Per quanto macabro Il film è indirizzato Un pelino A un pubblico Di bambini Quindi magari Se c'è un bambino Che alcune cose Non le capisce Con l'altro Wyby lo fa E soprattutto Perché avrebbe fatto Molto strano Avere una protagonista Che parlava da sola Per tutto il tempo Perché Quando te leggi un libro E tutti i pensieri Ce li hai Dal punto di vista Della protagonista Fra virgolette Cioè La protagonista Perché è Coraline Però Generalmente Quando leggi un libro I pensieri Ce li hai Dal punto di vista Del protagonista Quindi è come se Fossi te Il personaggio principale Della storia E Avere tutti i dialoghi O tutti i pensieri Narrati Dal punto di vista Del protagonista Funziona Se leggi un libro Se leggi un libro Funziona Se lo fai in un film Devi essere Veramente Veramente bravo E comunque No Poi cos'altro c'è Ah sì Altri cambiamenti minori Oltre al fatto Che Coraline Fa tutto da sola Non so se l'ho detto Ma la Hagstorm La ottiene Praticamente Subito All'inizio Le Miss Pink E Miss Forceful Gliela danno Subito Cambiamenti minori La scena Dell'altro padre Che Cioè la scena Dell'altra madre Che perde gli occhi E viene accecata E cerca Coraline Tramite Ecolocazione In realtà Viene spostata Al padre Viene spostata Al padre Addirittura Nel libro Non viene neanche Menzionato Un giardino Se non sbaglio Quindi Non mi ricordo bene Come Coraline Trovava la prima pietra Cioè scusate Come trovava i primi occhi Però mi ricordo Questa scena Nel libro In cui Coraline Entrava in una specie Di cantina Dove dentro c'era L'altro padre Tutto deformato Che un po' come Quello del film Le spiega Che io non voglio Farti del male È colpa sua Io non voglio Attaccarti Però sotto il controllo Dell'altra madre Inizia a attaccarla Mi sembra che sia Sempre lui A darle Il primo occhio Quando ancora Ha un po' di controllo E Nel libro Invece è lui Che grazie a Coraline Viene accecato Perché gli vengono Strappati via I bottoni dagli occhi E cerca Coraline Con è collocazione Cosa volevo dire Cosa volevo dire No ragazzi Nel film È stato reso Molto child friendly Cioè vabbè Vestiti strappati Un po' sporchi Eccetera eccetera Però Non si sono mai Azzardati a mostrare Un po' di sangue Perché tutto sommato Il film è per bambini Però cioè ragazzi Coraline Nelle parti finali Del film Del libro Dove scappa Cioè da come è descritto Lei è spaccata Dalla testa ai piedi Cioè da come è descritto Cioè nel libro È proprio descritto Che in alcuni punti È proprio ferita Ferita E Nel libro Addirittura Quando stacca la mano Dell'altra madre L'idea di rendere Tutta una creatura Fatta di aghi È un'idea del film Perché nel libro Questa cosa non c'è Ci sono anche Le illustrazioni Dentro il libro Dove quando le stacca La mano Chiudendo la porta Letteralmente Le stacca la mano È letteralmente Una mano mozzata E infatti A questo punto Capisco Perché nel film Forse hanno cercato Di rendere la fatta Di aghi Perché uno Forse magari Era un po' più creepy Ma magari Perlomeno Se risparmiavano La bega Di fare letteralmente Una mano mozzata Stile famiglia Adams Che inseguiva Coraline Una mano Una mano fatta di aghi Magari è inquietante Ma è un po' più sopportabile Per un bambino E No Che altro devo dire Altri cambiamenti Non è che ci sia stata Tantissima roba Cioè Perché una persona normale Adesso romperebbe il caso Ah sì Una cosa bella Nel libro di Coraline Fra le illustrazioni C'è un disegno di Pikachu Non chiedetemi perché C'è un disegno di Pikachu La mia unica spiegazione razionale È che Dato che Gaiman Ha scritto Aveva iniziato il libro Per una figlia E l'ha finito per un'altra Magari una delle due figlie Non lo so Conosceva Pokémon E lui ha voluto farle Il contentino disegnante Non lo so Però va bene Una persona normale Qui romperebbe il cazzo Dicendo Eh ma Il libro Eh me Aspettate scusate Devo fare una cosa Però mi serve in entrambi le mani Eh però Il libro È meglio del film Eh se non hai letto il libro Non capisci niente Ok Eh Potevo farlo con tutte e due le dita Potevo farlo effettivamente Con una mano Sola comunque Mi ero tappato al naso Per fare questa Vocina da bambino idiota Insomma Badmuda Insomma Però Vi dirò Sarò più che onesto Non starò qui a dire che il libro è meglio del film Non starò qui a dirvi che il film è meglio del libro Ma sapete che cosa vi dico Che sono entrambi Fottutamente validi Sono entrambi Più che meritevoli Perché il libro Vabbè Giustamente Ha dei tempi diversi E delle È una narrativa diversa Il libro di Coraline Sono d'accordo anch'io Che se l'avessero fatto Uguale Identico al libro Il film Scusate Sono d'accordo anch'io Che il film di Coraline Se l'avessero adattato Fedele al 100% Sul Sul grande schermo Non avrebbe retto Cioè Il libro Ha una narrazione Che va bene per il libro Se l'avessero fatta Uguale nel film Sarebbe stato Una cagata enorme Quindi il libro È comunque Molto valido Cioè diciamo che Sono due modi diversi Di raccontare La stessa storia Per come la vedo io Libro e film Sono due modi diversi Di raccontare La stessa storia Diciamo che il film Se la prende Molto più comoda Il film Se la prende Molto più comoda Però quello che apprezzo Del film È che è Oggettivamente Fatto bene C'è una cura Nei dettagli Che è Terrificante Ragazzi Voi non vi rendete conto Questo film È un po' Mi sento vecchio A dirlo È uscito 15 anni fa Io lo vidi Al cinema Mi ricordo ancora Quando nel 2007 Andai a vederlo In sala E C'eravamo scansati Tutta la pubblicità Siamo entrati Precisi Per i titoli Di testa Quando proprio C'era la scritta Coraline E fu letteralmente Il primo film 2007 Avevo tipo 9 anni Sì E a 9 anni Fu letteralmente Il primo film In assoluto Che una volta Finito Mi fece dire Voglio restare qui E guardarlo Una seconda volta A 9 anni A 9 anni Questo film Mi ha fatto dire Cazzo Voglio vederlo Una seconda volta Adesso Quanto abbiamo fatto bene A comprare Il DVD Ma comunque sia No perché Se no i miei genitori Li avrei finiti Che poi ragazzi Ora voi vi direte Un'altra cosa Che apprezzo Perché ora Iniziamo nella zona Entriamo nella zona Complicata Ma una cosa Che apprezzo È che Neil Gaiman Che è lo scrittore Del libro Praticamente Si è Si è Conosciuto Cioè Insomma Ha conosciuto Henry Selick Che è stato Il regista Di Coraline Perché allora La gente dice Che lui aveva già Finito il libro E che Selick Gli abbia detto Ah bello Ci posso fare un film Da quello che dicono Invece Direttamente Selick E Gaiman Nei contenuti speciali È che Gaiman Il libro Non lo aveva ancora finito Quando ha incontrato Selick Però Il libro Che l'aveva scritto Per una delle figlie Ha finito per scriverlo Per un'altra Lo stava scrivendo Già con l'intenzione E la speranza Che potesse diventare Un film Animato Quindi Quando ha conosciuto Selick Che ha detto Guarda Mi interessa Il tuo progetto È come dire Che L'hanno fatto assieme È come dire Che lo hanno fatto assieme Quindi L'autore di Coraline E il regista Del film Già si conoscevano Quando la storia Ancora non era conclusa E Mi piace Questa cosa Infatti Si vede Che è fatto bene Anche per il fatto Che l'autore stesso Del libro Ha seguito passo passo La realizzazione Del film Ed è stato lui Ad autorizzare Tutti i cambiamenti Possibili Quindi Ragazzi Rendetevi conto Che è un gran privilegio Avere direttamente L'autore Dell'opera originale A essere lì E dirti Che cosa puoi cambiare Che cosa no E che soprattutto Rimane lì Dall'inizio Alla fine A vedere tutto E già questa È una cosa Che te Ti alzeresti E batteresti Le mani Ma c'è ancora Un sacco Di roba Da dire Ragazzi Ora Parlando un attimo Dell'aspetto visivo Che è la parte Più figa Perché questo film Aiuto Questo film Ragazzi Vi giuro Che è uscito 15 anni fa Non so Quante volte L'ho visto In 15 anni Sicuramente 30 40 Anche 50 Volte L'avrò visto Sicur Guardate ragazzi Questo è l'unico Il film che Almeno una o due Volte all'anno Lo guardo E vi giuro Che in 15 anni Ogni volta Che riguardo Questo film Noto dei dettagli In più che le volte Scorse mi ero perso Ragazzi Nominatemi voi Un film Che E riguardandolo Per 15 anni Continuate a notare Dettagli Porca puttana Io Ora vi elenco Tutto quello che so Tutte le piccolezze Tutte le cose fighe Ma state sicuri Che se io Riguardassi questo film Il prossimo anno Vi potrei fare un altro audio Dicendovi altre cose in più Che ho notato Allora ragazzi Come funziona Questo film che l'hanno fatto In stop motion E quindi letteralmente Pupazzetti Set costruito Muovi la statuetta Di poco Fai una foto Muovila di poco Fai un'altra foto E così via Non mi ricordo Quanto tempo ci hanno messo Per fare Coraline Un anno due Sicuro Rendetevi conto Che ogni set Aveva Tipo sì e no Dalle due Alle cinque copie Tutto Tutto Quello che vedete Nel film Tutto Da cima a fondo È realizzato A mano Tutto E ogni set Ogni copia Del set Doveva essere uguale Se voi avevate Il modellino Di una delle stanze Della casa Le altre Due Tre Quattro Cinque copie Sempre fatte a mano Dovevano essere Uguali C'erano Tipo sì e no Dieci copie Di ogni personaggio Tutti loro Avevano dei vestiti E tra l'altro Qui apro una parentesi Ragazzi Tutti i vestiti Dei personaggi Soprattutto Quelli di Coraline Sono effettivamente Dei vestiti Veri Cioè Non sono tipo Riproduzioni Strane Cioè sì Sono dei vestiti Veri Che vanno Su un buratto Su una marionetta Su una statuetta Di 23 centimetri Ma Non è che Hanno aspetti strani Sono fatti materiali strani No Il golfino Con le stelline È a tutti gli effetti È un maglioncino È a tutti gli effetti Un maglioncino Cioè proprio per dire Se voi foste alti 23 centimetri Lo potreste indossare Tranquillamente Come un vestito Di tutti i giorni C'è una cura Nei dettagli Terrificante E voi tenete a mente Una cosa Che i vestiti Anche quelli Dovevano essere fatti A mano Perché Coraline Nei vestiti suoi Ce li ha i bottoncini Tipo Al collo Quel che è Ma c'è un problema Che bottoni Così piccoli Non li vendono Non li fanno Il bottone Più piccolo Che loro hanno trovato Era grande Quanto Una parte Della faccia Di Coraline Quindi Anche i bottoni Sono Creati a mano Nel vestitino Che Coraline Indossa alla fine Del film Tipo questa Mezza salopette Che la vedete Letteralmente Alla fine Del film Per Nemmeno Un minuto Totale E voi sapete Che sui jeans C'è sempre Quel pezzettino Di metallo Tondo Alla tasca Dei jeans Persino Quello è realizzato A mano Quei vestiti Sono stati Letteralmente Creati A mano Uno per uno Per delle statuette Di 23 centimetri E se voi Foste alti 23 centimetri Li potreste indossare E andarci a giro Non sono finti Sono a tutti gli effetti Dei vestiti in miniatura E già con questo Già parlando di questo Poi Tutti i personaggi Avevano i volti Interscambiabili Per le espressioni facciali Praticamente Parte sopra Della faccia E sotto Della faccia Erano Interscambiabili E Uno dei pochissimi Ritocchi Di computer grafica È stato Eliminare Lo stacco Fra la parte sopra E la parte sotto Perché se no Sarebbe stato Bruttissimo C'è un solo personaggio Dove questa cosa Non l'hanno fatta Molto bene E se hai Tantissimo occhio Te ne accorgi Io ormai me ne sono accorto Perché il film L'ho visto infinite volte È Bobinski E l'altro Bobinski Che Dove lui ha gli occhi Ha la testa Molto molto Sottile Però se guardate Molto bene Nella zona fra Fine dell'occhio E un pochettino Di Parte Laterale Dell'occhio C'è questo C'è questa mini riga Nera È l'unico personaggio Su cui non hanno Ritoccato questa cosa Però Vabbè Non dà tantissimo fastidio Non dà tantissimo fastidio Anche perché Deve avere un occhio Buono Per accorgertene Quindi quello è Credo il massimo Di computer grafica Che sia stato utilizzato Per le scene dove c'è la nebbia Addirittura Non l'hanno creata al computer Hanno Preso della gente Con del ghiaccio secco Che hanno ricostruito Tipo alcuni dei set Completamente neri In modo che Con un principio di green screen Potessero Tenere solamente la nebbia E inserirla Nelle scene in cui ci stava Cioè ovviamente avevano una copia Del set esterno Dove stava la nebbia Però tutto era nero Tranne il ghiaccio secco E addirittura Avevano creato Tipo dei mini tubicini Con dei piccoli Sbuffetti d'aria Per far sì Che la nebbia Si muovesse In base Ai movimenti Dei personaggi Non lo volevano fare Con la computer grafica Lo hanno fatto Con questo E poi un'altra cosa Il fuoco C'è questa scena Dove Coraline Trova la bambola Dei genitori E la brucia Nel camino E C'è la bambola Che brucia Ma in realtà Non c'è il fuoco Perché il fuoco In stop motion Non lo fai Il fuoco in stop motion Se vuoi farlo Reale Credibile Non lo puoi fare In stop motion Questi pazzi Hanno trovato un modo Quest'uomo Un pazzo Che ci ha messo Tipo 33 giorni Di lavoro Praticamente Per aggiungere Il fuoco Disegnava sul foglio La sagoma Della fiamma La scannerizzata L'ha messa Su photoshop Gli ha dato Dei colori In modo Che sembrasse Effettivamente Una fiamma L'ha inserita Nel fotogramma E poi ha ripetuto Questo passaggio Per tutti i fotogrammi Dove ci doveva essere Il fuoco Ci ha messo 33 giorni Pur di non fare Il fuoco In computer grafica Vabbè Non so con aiuto Di photoshop Quanto possa aiutare Cioè Praticamente È come se creasse Un png Della fiamma E lo mettesse Dove deve stare Non so questo Quanto possa essere Definibile Computer grafica Computer grafica Ma puttana miseria Quest'uomo Ha disegnato Le sagome Del fuoco Su carta Le ha scannerizzate Le ha ritoccate Su photoshop E le ha messe Nei fotogrammi Per una scena Che durerà Cioè Per un totale Di tempo Che non sarà Neanche un minuto Ma questo pazzo L'ha fatto Ma mai Quanto quella Psicopatica Di Amy Adami Amy Adami È Una delle Animatrici Di Coraline Che ha realizzato Questa sequenza Che doveva essere Un sogno Di Coraline Dove C'erano questi Topini Di Bobinsky Però erano Di carta E lei Li sognava Tipo fatti di carta Che si muovevano In cerchio Eccetera Eccetera Questa scena Questa scena Poi Dato che Allungava Un pochettino Il ritmo Del film L'hanno Tolta Hanno lasciato Soltanto Un pezzettino Di pochi secondi E la scena Completa L'hanno messa Alla fine Del film Cioè Alla fine Dei titoli Di coda L'hanno messa Perché vi parlo Di questo Perché questa Amy Adami Non solo Ha realizzato Questa scena In 66 giorni Letteralmente Ci ha messo Due mesi Per creare Questa scena Non solo Lo ha fatto Ma lo ha fatto Da sola Da sola Senza L'aiuto Di nessuno Ha creato Questa scena In due mesi Che alla fine Nel film L'hanno tenuto Sì e no Cinque Sei secondi Però Hanno avuto La premura Di dire Guarda Dato che ti sei fatta Così tanto Il culo Te la mettiamo Alla fine Dei titoli di coda Se qualcuno È rimasto E quando pubblichiamo Il dvd La mettiamo Nelle scene tagliate Perché Mi sembra giusto Che tu venga rispettata Per quello che hai fatto Poi ragazzi Non parliamo Del giardino Il giardino Nella scena Di topini Ho parlato I fiori blu Nel giardino Che dovrebbero Appresentare I capelli di Coraline Sono fatti Di carta E per fare L'animazione Dove sbocciano Non potevano Fare Una cosa Per ogni Singolo fiore Cosa hanno fatto Ne hanno preso Solo uno Un po' più grande E hanno fatto Questo Meccanismo Di apertura Tipo il fiore Che sboccia E lo hanno Inquadrato Cioè hanno fatto Comunque le foto In stop motion A questo singolo fiore Però Gli hanno messo Tutti Un botto Di specchi A giro In modo Che con una foto Avessero comunque Più inquadrature Dello stesso fiore In modo Che poi In post produzione Potevano usare La stessa immagine Ma da più Angolazioni diverse E poi Quando ci doveva essere La ripresa generale O con tutti i fiori Dall'alto Dall'alto C'erano tutti quanti Piccini Uno per uno Fatti di carta A creare i capelli Di Coraline I rampicanti Del giardino Nel film Li vediamo Al contrario Cioè La scena in cui Coraline entra E i rampicanti Le crescono Letteralmente Dietro Quella scena È stata girata È stata Montata Al contrario Perché Perché loro in realtà Avevano già Tutto Tutta la griglia Dei rampicanti Completa Ce l'avevano Già tutta completa E poi Tagliavano Pezzettini Girando la scena Al contrario In base a quanto Volevano gli animatori Infatti Vi rendete conto Che se la sbagliavano Dovevano ricreare Tutta la griglia Pazzi Pazzi Ah comunque Per Per tornare Il discorso Delle fiamme Del fuoco Un mese Quattro settimane Quattro settimane 1200 disegni Di fiamme Per la scena Della bambola bruciata Pazzi Pazzi Poi vabbè ragazzi Se parliamo Dei dettagli assurdi Che sulla torta Di benvenuto C'è scritto Welcome home Però Sulla O di home C'è Un doppio cerchio E nella grafia Quando viene usato Il doppio cerchio Dentro Le lettere Generalmente La A e la O Vuol dire Che quella persona Sta mentendo Sulla O di welcome C'è un solo cerchio Perché Coraline È la benvenuta Ma in home Ce ne sono due Perché lei Non è a casa L'altra madre Sta mentendo Ogni volta Che vediamo Coraline L'altro padre L'altra madre A tavola L'altra madre Ha sempre Il piatto vuoto L'altra madre Non mangia Mai Nulla C'è un alcune Dettagli Spaventosa Che quando L'altro padre Rientra dal giardino E sono In cucina A mangiare Se voi guardate Sotto il tavolo Letteralmente Ci sono Le pedate Di fango In terra Sotto le ciabatte Dell'altro padre Che sono sporche Di fango Io me ne sono accorto Adesso 15 anni Dopo l'uscita Del film Di questa cosa Così come Il padre normale Di Coraline Alla fine del film Ha una macchia Di pizza Sulla Sulla camicia E questa cosa Viene anche Un attimino Introdotta Da una scena Eliminata Perché Quella scena In realtà Doveva essere Un pelino Più lunga Ma per questione I film L'hanno tagliata È una questione Di un paio Di secondi Però Nel film Te magari Non ce ne fai Non ci fai caso E te ne raccorgi Tipo la quarta Quinta volta Che lo vedi Ma perché Ha una macchia Sulla maglia Perché loro A parte accennavano Che andavano A mangiare fuori Ma poi viene detto Proprio per esplicito Nella parte tagliata Di quella scena Che erano andate A mangiare la pizza Che lui si era sporcato Ma c'è una cura Nei dettagli Ragazzi In una delle scene Eliminate Dove il padre di Coraline Le cucina La cena Che è questa poltiglia In forme Che dovrebbero essere Lasagne Ma Nemmeno Dio Sa che cosa c'è In quella teglia Per fare le bollicine Di questa roba Che scoppia Hanno usato Cos'era Non era plastica Era Non voglio dire Una cosa tipo Crystal Ball Ma era una cosa Simile Tipo Tetra Pak Non mi ricordo Che cacchio Hanno usato Ma Persino Per delle scene Eliminate Poi Non so perché Abbiano scelto Di rendere Coraline Mancina Nel libro Non viene mai Specificata Questa cosa Ma va bene Che altro Devo dire Che altro Devo dire Ah si Dettagli Un'altra cosa Che io mi sono accorto Quando ho fatto vedere Coraline Alla mia Meme Girl Per la prima volta Perché lei Non lo aveva mai visto Quando Coraline Viene trascinata Dalla mano Dell'altra madre Verso la fine Del film Dopo Che lei Si è liberata Si può vedere Che ha il collo Arrossato Coraline Ha il collo Arrossato In quella scena E io me ne sono accorto Tipo un mese fa Uno o due mesi fa Di questa cosa Gli occhi del pirata Nella scenografia Del teatro Dell'altre Miss Pink E Miss Forcible Gli occhi del pirata Dietro Seguono Miss Pink È un cazzo Di uomo Su un fondale Teatrale Io mi sono accorto Di questa cosa Quando ho rivisto Il film Per farvi la recensione Puttana miseria Il film è uscito 15 anni fa E questi bastardi Della laica Hanno curato Ogni singolo Dettaglio Cazzo Cioè Io non lo so E poi c'è un'altra cosa Che ho scoperto oggi C'è un'altra cosa Che ho scoperto oggi Quando l'altra madre Si riferisce a Coraline Dopo che l'ha detto Di mettersi i bottoni Sugli occhi Dicendole Presto vedrai Le cose come noi Lei Le passa la mano Sugli occhi Facendo un gesto strano Che io da bambino Ho sempre guardato Ma non ho capito Perché facesse quel verso Letteramente L'altra madre Aveva Diritte Come dita Il mignolo L'indice E il pollice Sinistro Ci ho sempre fatto caso Ma non capivo perché Io pensavo Vabbè perché Mignolo E indice Vabbè magari Indica i due occhi Di Coraline E il pollice E così per estetica No Nella lingua dei segni Questa cosa vuol dire I love you Nella lingua dei segni Questo vuol dire Ti amo E l'altra madre Di Coraline In lingua dei segni Dice ti amo Puntandolo sugli occhi Di Coraline E non su Coraline Ragazzi Ma Questa gente Che ha fatto Questa roba della Laika È tutta roba Che non c'era nel libro Quanto cazzo Si sono impegnati Per fare sta roba L'hanno riempito Di dettagli In una maniera Terrificante Vabbè Ho scoperto altre cose Come quando Miss Pink E Miss Forcible Le leggono Il futuro Tramite La tassiomanzia Che è le foglie Del tè La mano Miss Pink Che ci vede La mano Vuol dire Amicizia La mano Nella tassiomanzia Vuol dire Amicizia E Miss Forcible Che ci vede La giraffa Nella tassiomanzia Vuol dire Equivoco E infatti Si riferisce All'altra madre Che è amichevole Con Coraline Ma palesemente Ha un secondo scopo Ragazzi Io non lo so Io non lo so Ragazzi Cioè c'è una moltitudine Di dettagli In questo film Che io sono sicuro Che se riguardo Il film Fra un anno E vi rifaccio Questa recensione Noto sicuramente Altri dettagli Ci sono alcune scene Eliminate Che mostrano Delle cose Che nel film Beh te nel film Non ci fai caso Ma il frigorifero Quando arrivano è vuoto Più avanti nel film C'è qualche disegno Attaccato sul frigorifero Piccoli dettagli Ma in una delle scene animate Vediamo Coraline Che fa quel disegno E lo attacca al frigo Ragazzi Io non lo so Io sto pensando A tutto quello Che vi posso dire Sull'aspetto visivo Ah già Un dettaglio No una cosa Di realizzazione Che Non so bene Se questa cosa Sia vera Perché non ho trovato Informazioni al riguardo Ma io ve la racconto Come se Fosse ufficiale Come cosa Mi sembrava Di averlo letto Da uno Che raccontava Di aver parlato Con uno degli animatori Di Coraline Nella scena Nelle scene Dove Tutto l'altro mondo Diventa grigio Ci sono tipo Questi mini tasselli Forse diventa tutto grigio Quando Coraline Prende la pallina No Ma quando lei gira Intorno al mondo E Si ricreano Tutti i tasselli Colorati Quei tasselli Sono Sono stati Attaccati Barra tolti Tutti quanti Uno per uno Quei tasselli Colorati Con la texture Non sono computer grafica Sono effettivamente Pezzetti colorati Stampati Tolti Uno per uno Barra inseriti Non mi ricordo Se l'hanno fatto A metterli O a toglierli Ma questi Sono dei fottuti Pazzi E non posso Chiamarli Per tutta questa roba Hanno fatto una cura Nei dettagli Che è terrificante Ah già Un'altra cosa Che mi sono scordato Di dire Dal film al libro C'è una differenza Fra film e libro Che nel film Quando Coraline Capisce dove sono nascosti I veri genitori Capisce che sono nascosti Dentro questo globo di neve Nel film Lei lo capisce Quasi alla fine Per botta di culo Perché anzi Addirittura Lo vede il gatto Al posto suo Nel libro In realtà Coraline Capisce subito Che i genitori Sono nascosti lì E per un motivo Ben specifico Che nel libro Viene detto Nel film Lei li trova lì Per culo Grazie al gatto Nel film Nel libro La mensola Sopra il vero camino È vuota È completamente Vuota Non c'è niente Mentre quando invece Va nell'altro mondo C'è una sola pallina E lei Facendo due più due Capisce Che i suoi genitori Sono nascosti lì dentro Nel libro Viene detta Questa cosa Molto Specificatamente Nel film Invece Viene lasciato Un po' Alla Ehi L'ha scoperto All'ultimo momento Botta di culo Sì Nel libro Poi viene fatto Anche un accenno Al fatto che Il tunnel Potrebbe a tutti Gli effetti Essere una cosa Senziente Viene accennato Al fatto che Il Il tunnel Fra il mondo Reale E l'altro mondo Sia un qualcosa Che esiste Da più tempo Dell'altro mondo E dell'altra madre Però Non viene Specificato troppo Viene buttata così Se qualcuno ci vuole fare Le teorie Ben venga Spero che su telegram Non mi scriva nessuno Roba importante Ok no Perfetto Perfetto Però ragazzi Io non lo so Posso vedere Coraline Infinite volte Addirittura penso Di aver beccato Una svista Degli animatori Penso Che la seconda volta Che Coraline Entra nel mondo magico E Con l'esca per i topi Lei Mi sembra Che insegua Tre topi Nella porta Se ne vedono Entrare quattro E quando lei la riapre Sono di nuovo tre Io non so Se questa sia Una svista mia Perché non l'ho mai visto Fotogramma per fotogramma Ma Non so se questa sia Una svista mia O effettivamente Un errore Da parte degli animatori Anche perché In un film stop motion Avere una svista Tipo Aggiungere un personaggio In una scena Non è una cosa Da poco Ma vabbè Anche se è una scena Di mezzo secondo Però Ragazzi C'è una cura Nei dettagli Che fa paura In Coraline Voi potete guardarlo Infinite volte E noterete Sempre qualcosa Noterete Sempre qualcosa E Nulla Io non so Quante altre cose Posso raccontare Sull'aspetto visivo Perché sto pensando Se c'è qualcos'altro Che io abbia tralasciato Ma Ragazzi Di sicuro C'è roba che mi sono dimenticato Perché Coraline È a tutti gli effetti Un film perfetto La musica È memorabile Ragazzi La musica Me la ricordo Ancora A distanza di anni Mi piace il momento In cui Ah sì Un altro dettaglio Sì Che Nel circo Dell'altro Bobinsky C'era questa gallina Che mangia Questa gallina robot Che mangiava Il mais Lo cuoceva dentro di sé E letteralmente Cagava al popcorn Nel mondo reale Nello stesso punto C'è effettivamente Una gallina vera Ragazzi Di che cazzo Stiamo parlando Ma comunque dicevo Per la musica A me piace Questo momento In cui Coraline Entra Nell'appartamento Dell'altro Bobinsky E la musica Del circo Che prima Era tutta felice È distorta È sottotono Sembra quasi Un eco Di quello Che un tempo Era qualcosa Di felice Ma che adesso È stato corrotto E non esiste più Il teatro Di Miss Pink E Miss Forcible Che questa volta È immerso Nel silenzio Prima c'era I suoni Del riscaldamento Dell'orchestra Non mi ricordo Come si chiama Ha un termine specifico C'era la musica Tutto allegro E lì invece È tutto buio Silenzio Non c'è un rumore Lì dentro Nel libro È ancora più inquietante Il teatro Loro Perché Già il teatro di base Gli veniva raccontato Ah ma qui lo spettacolo Non finisce mai Va avanti in eterno Lo spettacolo Qui non si ferma mai E quando rientra Il teatro Addirittura è tipo Tutto mezzo decrepito È tutto in decadenza Nel libro È ancora più Creepy as fuck Devo bere Perché è un'ora e dodici Che sto parlando bene Di questo capolavoro Mi serviva un po' d'acqua No La musica ragazzi È una cosa eccelsa La musica non si può parlare Di assolutamente niente Perché è a dir poco Favolosa E Che altro devo dire Sto pensando a che cos'altro Posso dire Perché C'è un botto di dettagli È un film Incredibile Ragazzi Io non so Quante cose Posso raccontare Ah sì I fantasmi Tra l'altro Mi piace vedere Che per i fantasmi Hanno usato una tecnica diversa Perché i fantasmi Sembrano fatti In computer grafica Perché sono trasparenti E quindi dici Ah beh Non possono aver usato Delle statuette Hanno usato Delle statuette Non ho capito come Le abbiano resi trasparenti Ma addirittura Per i fantasmi Hanno ridotto Il numero di fotogrammi Perché così Possono sembrare più Non proprio lì Cioè Noi vediamo Coraline Che Ipotizziamo 25 fps Noi vediamo Coraline Che si muove A 25 fps E i fantasmi Forse si muoveranno A 20-18 fps È Piccola la differenza Però vi accorgete Che a loro Mancano dei fotogrammi E funziona Perché loro sono fantasmi Non sono personaggi reali E ha senso Che abbiano Un qualcosa di più Innaturale Rispetto al resto È bello Come ti vengono presentati Perché te li vedi Capisci che sono comunque Delle cose disturbate Di quel mondo Ma in qualche modo Sai che non saranno Loro a farti del male E in tutto questo Ragazzi Si parla del doppiaggio Adesso Ragazzi Allora A parte che gli americani Ce l'hanno avuto Più facile Perché Sappiamo che gli americani Non sanno doppiare Però sanno recitare E Loro hanno avuto fortuna Perché prima Hanno letto tutti i dialoghi Hanno letto Il copione Recitandolo così E poi dopo Gli animatori Hanno Messo il labiale In base a quello Che dicevano Gli attori Quindi gli è andata Un po' più facile Cioè Da una parte Non dovevano stare Dietro al film Ma dall'altra Dovevano veramente Creare loro L'atmosfera Perché Loro stavano In una stanza Forse se gli andava bene Avevano delle bozze Forse Però Comunque Complimenti anche Alla ragazzina Che ha fatto Coraline In inglese Perché Brava Molto brava Anche lei E No vabbè Poi ci sono stati Nei momenti gaff Nello studio Dove si sono messi A ridere tutti quanti In una maniera assurda Però comunque Ragazzi Allora Coraline Ho fatto un po' Il cittone Perché Nel rivedermelo L'ho rivisto Direttamente in inglese Perché tanto Il doppiaggio italiano Ormai Ce l'ho impresso Nel cervello Le voci italiane Ormai le conosco Quindi ragazzi Vi dirò Sia in inglese Che in italiano È molto valido Anche il doppiaggio In inglese È molto Molto buono Ragazzi Cioè io li trovo Allo stesso livello Forse Forse È giusto Per due o tre pezzetti Dove c'è qualche rima Che torna Qualche tono Secondo me Un po' più giusto Secondo me Il doppiaggio italiano Privale Ma veramente di poco Ragazzi Cioè il combattimento La disputa È veramente combattuta Qui ragazzi Perché Io sarei quella persona Che vi dice Guardatevelo la prima volta In italiano E la seconda volta In inglese Perché sono entrambi Una cazzo di bomba Più che altro In inglese Ora in italiano Giustamente avevano Delle voci pulite E tutto quanto Ma anche in inglese I personaggi avevano Tutti delle voci pulite E scandivano Le parole molto bene Quindi GG Bravi tutti quanti E Nulla Nulla Mi piace Coraline È un bel film È un bell'horror Per ragazzi E Ha anche una bella morale Ha una bella morale Che vuole Insegnare la differenza Fra Genitori che Magari Non ti cagano Tantissimo Ma che ti vogliono bene E I genitori abusivi Barra I cosiddetti Predators Quelli che Insomma Ti danno tutto subito Ti danno il mondo Tutti di liaco Ma Palesemente Per secondi fini Cioè Che ti danno tutta una vita bella Però Per i loro interessi E non per i tuoi Che appena Provi a rivoltarti Contro Sono pronti a usare Tutto quello che hanno Contro di te Perché Ti conoscono Sanno quali sono i tuoi interessi Sanno quali sono i tuoi punti deboli E li utilizzeranno Per farti loro E infatti Ho letto anche Sta storia Sotto vari commenti Relativi a cose di Coraline Di uno di questi commenti Di questo ragazzo Che ha raccontato La sua esperienza Di essere stato In una setta O una di queste cose qui E che Molto spesso Questo è il tipo di psicologia Che viene usato Che Ti fanno credere Di essere parte della famiglia Ti danno tutto quello che vuoi Eccetera eccetera Ma appena prova ad andare via Useranno Contro di te Tutto quello che hanno E quasi quasi Addirittura Cercheranno Di farti sentire Come se fossi te Quello che sta sbagliando No Te sei una vittima Del sistema Sei solo vittima Di qualcuno Che si sta approfittando Di te E sa Quali sono i tuoi punti deboli E È molto bella La storia di Coraline Se prendiamo la morale Del fatto che I bottoni sugli occhi Sono un sinonimo di Non voler vedere la realtà E Restare nel mondo Magico Significa Perennemente Cucirsi i bottoni sugli occhi E di conseguenza Negare di vedere la realtà È bello È molto bello Che sia una morale che A un bambino Può fare molto comodo Certo se la riesce a capire Dipende a che età Lo guarda Coraline Però Ripeto Secondo me Coraline Lo puoi vedere a qualsiasi età Perché è un film bello E bene o male Ti ritornerà Comunque Sempre la voglia Di riguardarlo Perché ragazzi Diciamocela tutta È un film uscito nel 2007 15 anni fa E io ancora Lo riguardo Amazed Lo riguardo Affascinato Come se fosse La prima volta Ragazzi Io ogni volta Che riguardo questo film Mi dico Quanto cazzo È fatto bene Questi della Laika Hanno pensato a tutto Cazzo Non avevate il diritto Di fare così perfetto Il vostro primo film ufficiale Non avevate il diritto Di fare un capolavoro Così perfetto Per di più un'altra cosa Non mi ricordo Se questa cosa è successa Per il film O per il libro Penso per il libro Che Avevamo paura Che il libro facesse troppa paura Per dei bambini Quindi l'hanno fatto leggere Il figlio di qualcuno Eccetera eccetera Gli hanno chiesto Ma fa paura il libro Ti sei spaventato No no Non ho avuto paura Ok va bene Lo possiamo pubblicare Hanno pubblicato il libro E solo dopo Il bambino ha rivelato Che In realtà Aveva paura Però voleva sapere Come finiva la storia Voleva sapere Come continuava Quindi ragazzi Come dice Don Bluth Come diceva Don Bluth Ragazzi I bambini Vanno spaventati Ogni tanto I bambini Puoi fargli vedere Quello che vuoi L'importante È che la storia Finisca bene E un'altra cosa Che mi ero dimenticato Di dire Per l'aspetto visivo Neil Gaiman Ha voluto fare Una cosa furba Neil Gaiman Ricordo È l'autore del libro E non del film Ha voluto fare Una cosa furba Dato che il libro Lo voleva scrivere Per la figlia Più piccola Ha fatto la furbata Di ambientare La storia Dentro la loro Stessa casa O meglio Una casa uguale Alla loro In modo che così La figlia piccola Non doveva fare Lo sforzo Di impararsi Dove stavano Le stanze Dove stavano Le cose Eccetera eccetera Quindi quando diceva Coraline andò in cucina La bambina Poteva immaginarsi La cucina Di casa Loro E quando Neil Gaiman È andato Sul set Sul set Di Coraline E ha visto La casa Letteralmente Ha detto Ragazzi ma Quella è casa mia Quando voi Guardate al Pink Palace E all'appartamento Di Coraline È letteralmente La casa Di Neil Gaiman E io Porca puttana Quanto adoro Questa cosa Ragazzi Io penso che Coraline sia uno Di quei film Che più cose Scopri E più diventa Bello È un film Che già è bello Di suo E ti cattura Ma più retroscena Scopri Più dettagli Cogli A ogni visione E più lo adori Sempre di più Ah Come Una domanda Che anch'io Mi facevo Ma Se nel libro Non c'è Wyborn Come fa Coraline A scappare Dall'altro lato Dello specchio Perché questa cosa Succede Nel libro In realtà Succede che Letteralmente L'altra madre La riprende Con un bel Insomma Ha imparato A essere più buona Adesso Insomma Viene ritirata Fuori dall'altra madre Sto pensando Sto pensando No Che devo dirvi Ragazzi È un capolavoro Coraline Credo che sia A man bassa Uno dei miei film D'animazione Preferiti Se non Il film D'animazione Preferito In assoluto Perché Insomma Monster House Me lo porto Nel cuore Me lo sono imparato A memoria Secondo me Anche Coraline Sarei in grado Di ripeterlo A memoria Se volessi Però Monster House È carino È simpatico Ci sono un paio Di chicche Che quando lo riguardi Davanti Cogli meglio Ma secondo me Coraline È un livello Ancora più superiore Secondo me Coraline È un film A livello Ancora più superiore Perché la storia È bella È pieno È straricco Di dettagli Continua a scoprire cose Ogni volta Che lo riguardi E Ricollegandomi A un discorso Che ho iniziato Prima Ma non finito È secondo me Un film Che puoi vedere A tutte l'età Perché da bambino Sei conquistato Dal vedere la storia Dal vedere tutto quanto Vedere come Tutto è fatto bene Ragazzi A livello visivo Non è invecchiato Per un cazzo Questo film A livello visivo Potrebbe essere uscito Una settimana fa Quando sei un po' Più cresciuto Capisci meglio Alcuni comportamenti Da parte di Coraline Scopri Scopri Alcuni aspetti Di trama Se ti sei andato A informare Sei un po' Più grande Per capire Alcuni temi Quindi magari Alcune cose Che da bambino Ti sembravano strane O ti erano sfuggite Adesso le cogli Un po' meglio Ho letto commenti Di genitori Che lo hanno visto Assieme ai figli E Anche i genitori Hanno colto degli insegnamenti Dal punto di vista Dei genitori Quindi Anche a livello Di come crescere Un figlio Anche i genitori Hanno assorbito qualcosa E io ragazzi Ripeto ancora una volta Non è possibile Che nel 2022 Quasi 2023 A questo punto Perché è il primo Di dicembre Io non riesco A capacitarmi Come sia possibile Che siamo a un mese Dal 2023 E ancora nel mondo Esiste gente Che continua a dire Che i cartoni animati Sono per bambini No Un cartone L'animazione È un metodo Per raccontare una storia L'animazione È un metodo Per raccontare una storia Perché se Coraline Se Coraline fosse stato In live action Con la stessa identica trama Allora cosa sarebbe stato Un film per ragazzi O per adulti Se Coraline animato Con la stessa identica storia È stato fatto animato Automaticamente È per bambini Ragazzi Non capisco Com'è possibile Che nel 2022 Ci sia ancora gente Che è convinta Di questa cosa L'animazione Non è un genere Cinematografico È un metodo Per raccontare una storia Viene usato impropriamente Perché giustamente Film animati Pensi a cartone animato E li identifichi Subito Ma Un conto è dirlo Per dire Abbiamo capito Che è un cartone animato Ma La stessa storia Si può raccontare Anche con attori veri E ricollegandomi Al discorso di prima Ragazzi Dovessero mai fare Un remake O un live action In questo caso Immagino un live action Di Coraline Ma un qualsiasi cosa Tipo un reboot Un reboot No Un reboot è diverso Un remake O un live action Di Coraline Non reggerebbe A parte Sono contento Che sono passati 15 anni E nessuno Ci abbia ancora pensato Vuol dire Che ancora Non ne ha bisogno Però Secondo me Un live action Di Coraline Un remake Non renderebbe Uno perché C'è nella mia C'è nella testa Il ricordo Dell'originale Che comunque È un film Con i contromaroni Punto numero due Per essere al pari Dell'originale Dovrebbe essere fatto Veramente Veramente Bene Ragazzi Cioè Dovrebbe essere Al pari Se non superarlo E già superare L'originale È tanta roba Ragazzi Perché Lo so che detto così Sembra che io Stia facendo lo sborone Ma Credetemi che Questo è un film Che per me È il pilastro È un pilastro Dell'animazione E Davvero ragazzi Se io penso A tutti i film animati Che ho visto Coraline Lo metterei Sicuramente Nella top 5 Non so Al primo posto Non lo so Ci devo pensare Ma Nella top 5 Dei film animati Che ho visto Assolutamente Sì ragazzi È un film che Per 15 anni Non mi ha mai stancato Che penso Continuerò sempre A rivedere E ogni volta Che lo riguardo Noto sempre Qualcosa in più Sì hanno fatto Anche un videogioco Per un paio di console Che alla fine È lo stesso gioco Ma su più console Non ne parliamo Del videogioco Non ne parliamo Perché Molta cosa È broken Molte cose Sono broken Tanta roba Non ha senso C'è solo un pezzo Che mi ha fatto ridere Come un cretino Perché è no Senza Stuck Venne in fase Di editing Anzi no Venne sul momento Venne sul momento Segnati il minutaggio Della recensione Siamo a Ho una ditata Sugli occhiali Siamo a 1 27 Facciamo 1 E 28 Così almeno Venne in fase di editing Si ricorderà Che attorno a questo orario Dico una cosa Specifica Per voi di telegram Vi mando il video Appena ho finito Di registrare l'audio Per voi di youtube Taglio E ci vediamo Direttamente dopo Ma c'è questa scena Del gioco Che mi fa scassare Perché è no sense Come la merda Venne in fase di editing Per youtube Taglia Grazie a tutti E venne in fase di editing Spero che voi da youtube Abbiate resistito Abbastanza Da vedere questa perla Ignorante Ce n'è anche un'altra Che però non ho registrato Ma è questa scena Con Wyborn Un doppiaggio Veramente imbarazzante Tutto senza musica E È no sense Come la merda Ma Oh mio dio 1 ora e 28 Non so se ho superato La durata del film Probabilmente sì Cioè forse Contando anche I titoli di coda Non lo so Però sicuramente Ho parlato Quanto il film stesso E Nulla ragazzi Nulla Finalmente vi ho parlato Di Coraline Di Coraline La Porta Magica Che film Ragazzi ma vi giuro Io sono Sempre sorpreso Io sono sempre sorpreso Da questo film Perché Come vi ho già detto Ragazzi È una cura Nei dettagli Spaventosa Se consideriamo Poi che era Il loro primo film Era il loro primo film Ufficiale E loro se ne sono usciti Con questo capolavoro Ragazzi io Coraline Lo metto su un pilastro Lo metto su un piedistallo Porca puttana Lo metto su un piedistallo Dentro una teca Quindi Nulla ragazzi Ah per vostra informazione Se qualcuno di voi Il videogioco di Coraline Ce lo ha E funziona Perché a me Praticamente non parte più Il disco è consumato Ma se qualcuno di voi Ce lo ha Ancora funzionante Credo che Il videogioco adesso Costi tipo 350 euro Cioè Penso che adesso Questo gioco Sia un cimelio Perché una mia amica È andato a cercarlo E ci sono prezzi Che vanno dai 200 Ai 400 euro Per questo gioco Quindi tenetevelo stretto Cioè Cazzo Il videogioco di Coraline Nonostante per me Sia stata una delusione enorme È il nuovo Rule of Rose Porca puttana Cioè io Rule of Rose L'ho comprato A 140 euro Usato Però vabbè E nulla Nulla ragazzi Ho finito Non posso crederci Quindi ragazzi State sicuri Che se fra un anno Mi riguardo Coraline E vi rifaccio una recensione Sicuro noto Tanti altri dettagli In più Quindi ragazzi Vi saluto qui Vi saluto qui Anche perché È un'ora e mezzo Che sto camminando Avanti e indietro In camera mia Un'ora e mezzo Ora facciamo conto Che io faccio Due chilometri In quindici minuti Col mio passo Quindi Quindici Trenta Quarantacinque Cinquanta Due Per quattro Otto Io faccio 8 chilometri In un'ora Ho camminato 10 chilometri Facendo avanti e indietro In camera mia Bene Direi che Il mio esercizio fisico Per oggi L'ho fatto Non so se Camminare avanti e indietro In camera tua Per un'ora e mezzo Facendo All'incirca 9-10 chilometri Conti come fare esercizio fisico Però ragazzi Wow Quindi ragazzi Nulla davvero Se non avete visto Coraline Recuperatevelo Perché è veramente Una grande perla È veramente una grande perla E io vi saluto Perché se no Va davanti all'infinito Un bacione Vi voglio bene Bevete e restate idratati Mua